Promossa dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è tenuta a Torino, a Palazzo Lascaris, la conferenza stampa di presentazione del rapporto 2014 sulla pena di morte nel mondo di Nessuno Tocchi Caino. Cina, Iran e Iraq sono i tre paesi che nel 2013 hanno compiuto più esecuzioni nel mondo.